Ok, allora carichiamo il libretto che poi l'ho già caricato, però lo torniamo a caricare. Allora intanto la provincia di competenza è Alessandria perché il lavoro è stato fatto lì. Allora io l'ho messo sul desktop. Mi può da ridere perché fare queste ricerche qui con pregeo ragazzi. Poi io non so tu Gianni ma se anche delle reti, quindi dei dischi rete, io ne ho tre per dire, quindi faccio una fatica quando vai a cercare. Ma e te le vede le reti poi lui o va a fuggire? No, lo vede come una lettera, come se fosse un disco, quindi per dire K, J, L, quindi... Sì, 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 giusto. Ok, vai qua. Carichiamo il libretto, lui dirà che esiste già, noi lo andiamo a sovrascrivere. Poi andiamo a selezionare il libretto, infatti lui l'ha messo dentro lo stato inserito. Lo andiamo a caricare. Sì, diciamo Corrado che questo dovrebbe essere il libretto che scarichi, diciamo, dal... Poi ovvero ogni strumento ha il suo formato, comunque ecco il libretto scaricato dalla strumentazione, nudo e crudo, ecco, diciamo, senza le parti... Sì, diciamo che è il libretto che uno può aver ritoccato, diciamo così alla fine aggiungendo qualche punto che manca, oppure può essere quello nudo e crudo perché delle volte si riesce, sono poche però, delle volte si riesce ancora a fare il libretto completo fuori e non c'è più bisogno di fare niente. Sì, diciamo, ecco qui abbiamo già messo la riga di tipo 0, la riga di tipo 9 che invece potrebbe essere per alcuni colleghi che caricano magari il libretto, la riga di tipo 0, la riga di tipo 9, devono metterla loro prima di caricare il libretto. Adesso andiamo a vedere un po' tutto ancora in specifico. Allora, qua bisogna stare molto attenti perché quando uno carica un libretto di default lui va a mettere aggrigento qua, ok? Quindi bisogna sempre cliccare sulla riga 0 e andare a mettere la provincia corretta. Beh, intanto ho avuto metti i tuoi dati così. Metti i tuoi dati, ho detto. No, vabbè, non c'è mica nessun problema. Ok, quindi qua bisogna andare a cambiare e mettere la propria provincia perché spesso è un errore che uno trascurre un attimino e dopo il tipo non va mica bene. Anche se, devo dire, no, se tu appunto la riga 0, la riga 9 la scrivi già nel file che importi, non capisco mai lui non rilevi la provincia. Non lo so, non lo so. Io so solo che almeno da parte mia, poi adesso io non riesco a vedere le risposte degli altri, tutte le volte io la metto corretta, poi tutte le volte ci clicco sopra, lui mi sbatte aggrigento sopra. Sì, si mette aggrigento perché è la prima. È la prima, sì. Poi qua abbiamo la riga di tipo 9 dove abbiamo già fatto vedere comunque, torniamo a dire, la quota in metri della zona. La quota è importante sempre mettere una quota che sia diciamo abbastanza corrispondente alla realtà, diciamo nell'ottica di 50 metri più o meno, quindi mi sembra che proprio anche la circolare 2,88 lo definisse, ecco dice, la quota con una precisione nell'ordine dei 50 metri. Ecco, però non mettere 1000 se siamo a 100 metri o non mettere 100 se siamo a 1000, ecco. Esatto, esatto. La est media che può essere la est media dell'otto in cui stiamo lavorando oppure può essere la est media dei 3 PF. Sì, dei 3 PF. Io ecco normalmente la prendo adesso essendoci la possibilità di utilizzare l'MP, la prendo così abbastanza centrale rispetto a dove faccio la proposta, ecco se so dove vado a trattare la prendo un po' così. Però si può fare la media dei PF, ad esempio il programma che uso anche se invece io lo faccio fare al programma prende la media dei PF. Esatto, poi il tipo di atto di aggiornamento in questo caso qua abbiamo detto con frazionamento. Ecco, quello è di nuovo importante ricordarsi sempre di andare a metterlo giusto, ecco se uno la compila, la compila lui non c'è problema perché sicuramente la mette giusta, ma può capitare quando si usano questi programmi che diciamo precompilano la linea, no? E di effettivamente magari dimenticarsi e quindi viene così sempre fuori il tipo di frazionamento che è il primo, no? E poi uno invece non sta facendo un frazionamento ma sta facendo magari un tipo mappale. No, su quello io non ho mai riscontrato dei problemi, cioè mantieni quello... Il mio programma effettivamente se non vado dentro a cambiarla, lui mette frazionamento di default. Lo so perché l'altro giorno stavo facendo un tipo mappale, me ne sono accorto, pensa te, quando sono arrivato poi nella proposta, cioè nel fare l'atto dematerializzato perché mi chiedeva la domanda se devo notificarlo, no? E allora lì mi è venuto subito il dubbio, dico cavoli, effettivamente ho dovuto cambiare, avevo lasciato il tipo sbagliato. Ecco, poi qua c'è la descrizione della strumentazione che uno ha usato. Ok, adesso noi qui abbiamo già messo dentro la catena delle righe delle poligonari, adesso facciamo vedere che elaborando il libretto risulta quel colore che noi amiamo, che è quello verde, ok? E quello che su Race non era tanto amante, eh Gianni? Allora, in primis io ho già messo dentro nel mio archivio, io non tiro dentro tutta la TAF, ma inserisco solamente le monografie dei punti che usano, quindi lui in automatico mi va a pescare già le righe di tipo 8 con i 4 PF che abbiamo usato e, diciamo così, riesce ad elaborare il tipo e dire che problemi non ce ne sono. Però adesso torniamo indietro un attimo Gianni, eh? Sì, sì. E facciamo vedere che se io vado sul libretto e cancello quella robetta qua, vi dico salvo. Sanno le righe di tipo 3, quindi si è cancellato le righe di tipo 3. È un colore che ci piace un po' meno, vedete? Vedete il colore che dice... All'inizio forse è corato un po' più in alto, quando parti dice la presenza di catena accelerometrica e quindi lui si accorge che abbiamo fatto, abbiamo utilizzato una catena di 4 stazioni e dice richiede una poligonale, dice attenzione che richiede una poligonale, quindi ecco qui, diciamo, ci ribadisce già lui che servirebbe una poligonale. Quindi, ripetiamo, oltre le 3 stazioni, cioè con 4 stazioni, bisogna mettere la riga delle poligonali. Adesso andiamo a inserirla insieme, così vediamo come si mette dentro. Scusa un attimo ancora, lo diciamo perché è interessante, Jonathan, lui è bravo, e quindi visto che è bravo lo utilizziamo. No, diceva Jonathan che le informazioni della riga 0, il pregeo, le attinge dal disco C-Windows, adesso aspetta che vada a leggere tutto perché... Il pregeo.ini, il pregeo.ini dice. Ecco, quindi ecco, probabilmente se lì, diciamo, io non so se si può modificare, ecco, se però io lì... No, beh, sì, i file.ini, a parte che sono della preistoria perché riguardavano ancora i primi Windows, però il pregeo è nato in quell'epoca lì ed è rimasto un po' con quella filosofia lì. Il pregeo.ini è un file di testo e quindi, ecco, magari la prossima volta, facciamo a vedere, probabilmente se tu lì vai a mettere i dati corretti lì, dopo lui tiene quelli, ecco, fatto bene. Sì, questo è... sì, ecco, io non sono un programmatore, Jonathan è bravo, quindi... Poi c'era un'altra domanda, già che scusa ancora un attimo, Corrado, poi andiamo avanti, perché così almeno le vediamo tutte. C'era una domanda che diceva di un collega, una domanda, scusa, c'era un collega che diceva che lui la quota la prende dalla CTR dell'Emilia-Romagna in scala 1.5000, sicuramente vedo già la scala che è un'ottima scala e quindi dice che è sicuro che la quota sia giusta. Cioè, certo che se uno mette la quota giusta non sbaglia mai e fa bene a farlo. E poi c'era un altro collega che invece chiedeva proprio... Puoi ripetere come hai fatto a far riconoscere i PF e Luciano che chiedeva questo, Corrado? Allora, torniamo indietro e facciamo l'operazione. Allora, adesso qua lui ha tirato dentro le righe 8, no? E i PF li ha pescati in automatico dentro la mia TAF. Adesso io esco di qua e vado qua... Scusa, Corrado, mi raccomando, quando fai clicchi lì e connette, poi qui c'è un collega che dice appunto di... Quindi facciamo andare piano e spiegare bene i passaggi perché giustamente alcuni se fanno il corso per imparare così qualcosa vedono e imparano. No, nel senso che tu le iconette lì le clicchi a occhi chiusi, no? Però ecco magari appunto chi... Mi parli i commenti, ecco, cioè quando ci vai sopra dici questa è l'iconetta, ecco. Ha ragione. Allora, adesso cosa ho fatto? Ho cancellato dal libretto le righe 8 dei punti fiduciali che lui aveva preso in automatico dalla TAF. Quindi faccio vedere... Ma ma è che è cancellato anche delle righe 2. Ho cancellato anche le 2? Probabilmente sì. Vabbè, ma poi lo ricarichi di nuovo quando parliamo. Lo ricarichiamo, sì, lo ricarichiamo. Ebbene, in effetti è un attimo quando cancelli... Sì, è successo anche a me, in effetti è... E adesso ha di nuovo ricaricato il libretto. Sì, è facile che io ho letto PF e sono andato subito. No, erano già tolti, scusami, le righe 8 le avevamo già tolte. E anche tu ce le hai nella tassa e lui le riconosce, le riconosce. Ok. Allora, qua adesso torniamo a cancellare le righe delle poligonali che così dopo le mettiamo dentro, no? Bene, non ci sono le righe 8 e non ci sono le righe delle poligonali. Salviamo. Come faccio io? Esco con quell'icona qua. Poi vado qui e le dico Gestione, punti fiduciali e monografie. Allora, uno si può caricare tutta la TAF che vuole con milioni di punti. Io non lo faccio per una mia scelta perché qua dentro ci sono solo i PF che io ho usato con i miei tipi. Non mi servono gli altri. Quindi tutte le volte che io devo fare un lavoro se non ho il PF gli dico nuovo PF e inserisco i dati da qui. Quindi... Ti inserisci a manina così? Sì, mi inserisco prendendo la monografia e mettendoli dentro. Però io qui ho un mio controllo che so quello che ho usato nei miei lavori. Non mi interessa avere tutta la TAF di roba che non uso. Anche perché poi, casomai, le coordinate possono variare leggermente così. Quindi al momento io li metto dentro. Non mi costa nulla perdere 10 minuti per metterli dentro. Quindi inserisco qui con nuovo PF i dati. Poi gli dico a chi via PF con quel tasto qui. Tutti questi dati li leggete dalla monografia, comune, foglio, tendibilità che l'abbiamo già vista, la nord e la est, la descrizione, la quota di cui abbiamo già parlato e poi uno gli dà archivi a PF. E qui compare il PF. Quindi lui cosa fa? Quando io mando in elaborazione il tipo, va a pescare in automatico da lì le informazioni che servono. Quindi se adesso io gli dico elaborazione, torna il colorino che non ci piace, che è il blu perché non abbiamo messo le righe delle poligonali, però come vedete è andato a pescarsi quello che è il nostro. Insomma, le righe 8, sì, sì. Il PF, sì. Tutto chiaro finora? Sì, sì, chiaro, chiaro. Ma secondo me fai bene a inserire solo il PF che riguardano i lavori che fai, perché sennò carichi su una marea di roba che dopo... No, io invece purtroppo sono abituato male, Corrado. Io vado a intasare solo il software perché comunque il file lì dovrebbe essere almeno una decina di mega lo è, quindi vado a... E poi non ho controllo su quello che ho usato, quello che ho fatto, cioè non mi interessa. Sì, no, c'era un collega, scusa Alberto, che diceva ma le coordinate di PF presenti nella monografia che quindi tu usi, Corrado, non sono aggiornate. In effetti è vero, anche se non è che cambi molto, è perché secondo me quando poi tu presenti il tipo lui le va a leggere se i PF sono esistenti nella banca dati del Catastro, lui va a leggere quelle che ci sono in banca dati diciamo di TAF del Catastro. Quindi non penso che cambi molto. E poi a dire il vero l'altra cosa che ho visto che ultimamente non è che le aggiornino troppo le coordinate, mentre in passato cambiavano ogni volta che presentavi un tipo tu o qualcun altro e usava quella coppia di PF le coordinate in TAF cambiavano. Ultimamente ho visto che questa situazione qua deve essere stata, diciamo, non viene più recepita dagli uffici quindi penso che non lo facciano più l'aggiornamento dei dati TAF. Però è un mio pensiero, perché da quello che ho visto ultimamente mi sembra di no. Va bene. Allora, adesso usciamo da qui e andiamo a mettere dentro assieme le righe delle poligonali. Allora, mi metto quel cursore dopo la riga 9 e con quell'iconetta che c'è qui vedete questa? Mettiamo dentro la catena delle poligonali. Allora, Sergio, qui clicco sulla lista cominciamo con la prima catena Allora, io la prima catena avevo messo PF8 del foglio 25 PF8 del foglio 25 la stazione 300 stazione 100 stazione 200 stazione 400 e il PF11 Ecco, qui appunto sarebbe da dire forse che vanno messi anche i PF terminali non soltanto le stazioni, no? Allora, io la linea poligonale la faccio così poi ovviamente non viene calcolata perché il PF cioè No, no, ma fatta così ci va il primo PF d'attacco e quello finale Quindi poi la seconda riga ho fatto un'altra riga potremmo lasciarne una sola ma se volete mettere un'altra C'è il tacco che mi metto col cursore qua di fianco alla prima riga che ho messo attenzione dove mettete il cursore se lo mettete qui vi mette la riga qua in mezzo Altra riga PF11 del foglio 25 500 200 100 PF18 PF18 Ok? Accetto Quindi vedete che le due righe 3 le ha messe giustamente dopo la riga 9 Adesso io salvo esco le dico elabora e torna il nostro colore preferito Andiamo a leggere cosa dice il sistema è noto dice che insomma problemi non ce ne sono Adesso analizziamo un attimino questa qua Gianni e spieghiamo un attimo questa qui è i risultati diagnostici delle coordinate post elaborazione Allora Adesso Gianni spieghi un attimo cosa vogliono dire queste cose e dico spiega tu Gianni perché Gianni ha dedicato in modo approfondito delle pagine del libro che parla di queste cose Adesso farà una sintesi se no stiamo qui fino a domani Sì sì faccio una sintesi prima che mi passo nello schermo io qua volevo appunto far vedere finché c'è questa schermata qui tua no Corrado che se guarda male se vai col cursore in cima appunto vedete che l'elaborazione all'inizio ha sempre questi 4 valori se vai forse Corrado col cursore SQM è l'unità di peso a priori vedete c'è un valore SQM è l'unità di peso a posteriori SQM è l'unità di peso interna SQM è l'unità di peso esterna e questi sono già 4 righe io mi ricordo che quando avevo fatto il corso con i professori Maggiore Surace avevo fatto un seminario avevo partecipato migliaia, migliaia di geometri italiani e io avevo chiesto ma voi sapete cosa sono questi valori qua e su migliaia di geometri nessuno mi ha risposto di sì tutti mi hanno detto sì forse è una vaga idea ma ecco e quindi immagino che non siano molti a sapere cosa sono poi vedete sempre su questa schermata qui vedete che allora beh diciamo Corrado se vai sulle coordinate c'è nord no vai su c'è nord poi c'è l'SQM riferito alla coordinata nord poi c'è l'est poi c'è l'SQM riferito alla est poi ci sono i semiassi max min ecco e allora anche qui bisogna capire cosa sono cosa non sono poi c'è l'inclinazione e queste tre colonne beh l'ESQM poi adesso vi dirò brevemente cosa sono e poi ci sono appunto questi che sono i dati del famoso ellisse d'errore poi sotto ancora ci sono qui vedete stazioni 100 correzioni e c'è anche qui uno scarto cc sapete che sono i secondi di grado centesimale i grado centesimali hanno i primi due decimali che si indica con una c soltanto che sono i primi centesimali e poi le altre due cifre la terza e la quarta che sono i secondi centesimali che si indicano con cc e poi va bene sono i pf la distanza della TAMI l'SQM tutte le stesse robe adesso mi riprendo lo schermo perché aspetta un attimo che faccio vedere una cosa una cosa e come vedete ci sono i risultati avendo allegato il file TAF e DIS cioè avendo allegato il file DIS dei tipi che ci sono in atti con relativi scarti sì quello corrado il file DIS è fondamentale che sia associato perché se non ci sono quegli scarti lì nell'elaborazione attenzione che diciamo se uno presenta il file al catasto se non ci sono problemi il catasto lo prende in ogni caso e viene accettato ma se per caso ci fossero delle discordanze con altri tecnici il tipo ci viene respinto ecco perché in quel caso lì non viene fuori la relazione strutturata vuol dire che non possiamo dichiarare che abbiamo iperdeterminato e le nostre misure vanno bene abbiamo iperdeterminato i punti ecco quindi diciamo che quando si vede l'elaborazione se uno vede che c'è il diciamo la tabella del confronto con le misurate vuol dire che ha il file all'interno del libretto cioè quindi all'interno del pregeo e il libretto li legge se per caso ecco non vede quella tabella vuol dire o che non ci sono misurate che ha preso 3bf per la prima volta messi insieme tra loro quindi non ci sono misurate cosa abbastanza rara ma potrebbe anche capitare o se no che il file non è stato associato e quindi diciamo conviene associarlo e andare a fare questa verifica oppure dicevamo Sergio che il file non è presente nella cartella ARC di pregeo perché se tu lo metti da un'altra parte anche lì e lui sta roba qui non lo trova e non ti dà questo confronto qua certo e c'era scusa Alberto che così capiamo non so dice perché che diagnostica sempre che mancano i punti di attacco scusa Corrado vai un attimo non so di cosa si riferisce quindi andiamo a vedere nella poligonale dice alla fine dice beh sì alla fine ti dice penso che ti dica che la poligonale praticamente non è calcolata perché comunque i pf hanno un codice di attendibilità che non è da poligonale ecco cioè quindi ovviamente è una falsa poligonale nel senso sì la poligonale c'è ma non viene calco cioè non è che una falsa poligonale non viene calcolata come una poligonale noi abbiamo messo dentro due aste ma bisogna mettere dentro tutte le aste tutte cioè noi abbiamo messo dentro due catene no ma bisogna mettere dentro anche quella catena qui poi bisogna mettere dentro quella catena qui poi bisogna mettere dentro quella catena però in ogni caso ti dice perché non lo so ecco l'unico che non abbia toccato se vai a vedere il 6 si potrebbe provare cioè questo è stato provato e quindi se lo vede invece nel senso che tutte le catene non dice più niente però non serve comunque a nulla perché non calcola niente capito quindi sì di fatti qui alberto dice no io spenderei un secondo per chiedere che le poligonali che si inseriscono in presia probabilmente sono delle poligonali tra virgolette istituzionali non sono delle poligonali vincolate agli estremi ecco certo certo anche perché dovresti farle con le caratteristiche che avevamo visto con la normativa che prevede la normativa ecco sì anche perché non è che tu puoi chiudere sul pf cioè dovresti avere un altro dps per avere anche la correzione angolare no mentre qui tu gliene dai uno e basta e quindi effettivamente cioè viene chiamata riga di poligonale ma diciamo diciamo che c'è stato era prevista dalla circolare poi nessuno la utilizzava no almeno che non facessero poligonali vere ma nessuno la utilizzava per fare gli aggiornamenti e poi a un certo punto e se la sono di nuovo ritirata fuori non so con che scopo ecco l'amministrazione si accorta dopo i anni che nessuno usava più la riga di tipo 3 che serviva la riga di tipo 3 che effettivamente secondo me serve anche a poco in questo momento però ecco magari c'è uno scopo che io conosco ecco adesso mi sono ripreso lo schermo perché appunto parlando di quei valori che escono dell'elaborazione io sto scrivendo un libro insomma però i vari capitoli man mano li pubblico sui forum li li così li condivido anche perché poi ricevo anche molti consigli in molti segmenti e qui sul capitolo che riguarda pregeo ho scritto un paragrafo adesso qui il titolo guardate lo cambierò perché poi ho visto che se io l'ho messo i rischi in affidarsi al calco di pregeo poi cambierò il titolo perché ho visto che su qualche forum dico no ma pregeo fa tutto giusto pregeo è il programma gianni si non è tanto quello condivido nel senso che sembrerebbe che è un problema di pregeo no è un problema se utilizzi pregeo per delle cose a cui non è stato preposto nel senso che non è colpa di pregeo ecco in questo caso diciamo c'è alcune cose sì che hai scritto se non è pregeo che magari non le fa in modo diciamo corretto o comunque in modo come lo vorremmo però non è un programma diciamo di topografia ecco se uno lo usa come programma di topografia effettivamente non è la sua funzione quindi non è colpa di pregeo ecco di fatti inizio la tercera probabilmente dirò i rischi al calco di pregeo per lavori non catastali ecco perché giustamente tanti magari pensano che possa essere studiato anche per fare elaborare un rilievo ai fini topografici mentre invece e qui ho messo giù vari adesso me la faccio molto breve cioè qui ho spiegato che pregeo per esempio nei rilievi gps li calcola come se fossero celerimetrici e prende la prima riga 2 il primo punto che c'è sulla prima riga 2 dopo la base gps lo prende come orientamento e magari quel punto lì fatalità è molto vicino alla base gps per cui dopo ecco ti dà dei semiassi da 3 km a 8 ti dà degli sqm pazzeschi ecco perché perché è chiaro che se tu calcoli un orientamento sul primo punto che io ti metto a caso dopo la base gps quel punto lì è vicino alla base perché ha istituito la base virtuale sul posto e quella che è andata a finire vicino a un punto rilevato è chiaro che hai sti problemi qua ma che è secondo me è una cosa che non va bene perché tu hai misurato col gps non c'è non hai misurato nessun angolo non c'è il problema dell'orientamento sul gps però adesso questo qui ve la faccio breve perché sennò ecco e quindi che ho spiegato sta cosa qui poi ecco c'è un secondo capitolo che secondo secondo diciamo sezione che parla degli sqm calcolati anche per punti isolati perché preseo ecco in quella schermata che abbiamo visto con corrado poi magari ci torniamo questo era un semplice rilevetto celerimetrico ti dà e poi sono tutti i conti e ti dà diciamo degli scarti anche su punti che non che sono stati battuti una volta solo ecco per cui e questo per quanto mi riguarda poi io ne ho parlato anche appunto avete qui i professori maseroli su racce che hanno tenuto quel bel corso qualche due tre anni fa e anche loro mi dicono sì non è corretto perché l'sqm è un indice che deve essere dato soltanto se tu hai iperdeterminazioni allora puoi dire che il punto è corretto o non corretto a secondo che l'sqm sia basso o sia meno basso ecco ma su punti battuti una volta solo non dovrebbe essi mentre invece preseo ti dà lo scarto uguale che però è lo scarto si chiama a priori tanto per entrare adesso nella quella nomenclatura cioè uno scarto semplicemente tenendo conto delle precisioni strumentali ecco tutto lì poi qui ho spiegato ecco cos'è lo scarto quadratico medio ma l'ho spiegato in una paginetta è perché ci vorrebbe forse un po di più ma qui ho detto semplicemente concetto lo scarto quadratico medio è che deriva la teoria dei minimi quadrati che dice che il valore più probabile di una grandessa è misurata n volte tu prendi gli n valori misurati il dividi per n e quello è il valore più probabile di quella grandessa gli scarti cosa sono sono ciascun valore meno la media ed è lo scarto lo scarto quadratico medio cos'è è la sommatoria di questi scarti qui singoli elevati al quadrato fratto n meno 1 sotto radice questo è lo scarto quadratico medio adesso ve lo sto dicendo in maniera straveloce ma tanto per capire di cosa stiamo parlando perché è importante qui la sigma lo scarto quadratico medio perché matematicamente è stato dimostrato che ciascun valore che tu misuri alla probabilità del 99,7 per cento quindi praticamente tutti i valori che misuri sono entro tre volte lsqm e questo è quindi considerato l'errore temibile ecco se tu hai uno scarto che sopra tre volte lsqm vuol dire che hai commesso un errore grossolano questo per dire cosa è lo scarto e poi quelle quattro vie che vedevamo no lì vedete che sulla schermata lì della borsa di pregeo è sempre scritto sqm dell'unità di peso e poi questa viene divisa in sqm di peso a priori a posteriori interna esterna qui adesso guardate io ve lo metto sto pdf qui quindi se volete andate a legge perché vedete che qui e che qui poi ho cercato già qui di non dare una spiegazione matematica perché sarebbe una cosa da universitaria fare una spiegazione matematica ho messo una così una descrizione concettuale no però vedete che comunque sono dieci righe ma in sostanza sono tutti indici di attendibilità a priori vuol dire che è un indice di attenibilità che riguarda soltanto le strumentazioni utilizzate a posteriori invece riguarda proprio anche le misure fatte interna a riguarda è un indice di attenibilità anche questo affidabilità a posteriori cioè rispetto ai vincoli che ha il rilievo quindi ai punti a cui mi sono vincolato però diciamo semplicemente ai punti del mio rilievo esterna invece è un indice di abilità che riguarda invece poi l'inquadramento sui pf ecco adesso questo mi rendo conto che sto dicendo cose che non si capisce niente però ecco poi se leggete qui qualcosa lo capirete e poi dicevamo che se rimane spazio durante questo corso io dedicherò una parte di lezione se c'è tempo a sviscerare meglio questi concetti altrimenti farò poi un seminario successivo al corso se non ci sarà tempo e dedicherò dovuto tempo a queste cose qua ecco poi c'è l'illice d'errore perché appunto lì vedevate che c'erano i semi assi maggiore minore no e sapete che la teoria degli errori mediante queste formule qui che vedete ha sempre poi come parametro l'SQM no e determinano un ellisse si chiama standard errore ed è sto a fare qua quindi qui in base appunto gli SQM viene determinato sto ellisse vengono determinati gli assi vedete i semi assi ecco perché l'A è semi assi maggiore il B è semi assi minore e poi FI che è l'angolo rispetto al nord e quindi vengono calcolati questi ellissi e pregeo da i valori di questi semi assi e quell'inclinazione che vedete è questo angolo FI. Io dopo qui ho fatto tutta una serie di confronti sul celerimetrico, sul GPS e come pregeo poi cambi i valori di volta in volta quindi tutte cose insomma che io ho sviscerato bene e quindi poi se volete qua ve lo leggete e ripeto poi ecco questo per esempio era il discorso dei punti diciamo non determinati che ho preso un punto 201 e ho fatto vedere che era un punto battuto una sola volta ho fatto vedere che qui veniva dato uno scarto di un centimetro vedete nord e due centimetri est poi cosa ho fatto li ho aumentato la distanza di 10 metri quindi vedete qui era qui la distanza presa della serie totale era 9,81 e l'ho portato a 19,81 quindi aumentato 10 metri e lui continua a darti uno scarto qui addirittura più basso un centimetro e qui due centimetri ecco cioè mentre invece il punto sbagliato di 10 metri ecco questo è il concetto di dire perché mi dai uno scarto che mi fa pensare che il punto sia sicuro e controllato e invece sbagliato di 10 metri ecco queste sono un po' queste cose che ho voluto mettere in evidenza avendone parlato appunto con questi due luminari la topografia che sono insomma e su questo poi varebbe la pena si dedicare un po' più tempo poi c'è l'incongruenza della vrs se virtuale fissata però adesso qui chiamano troppo troppo avanti per cui io direi che ci fermiamo quali si gianni c'era che poi così già già che puoi fare ancora la prova aggiungere c'era stefano che dice dai sperimenti fatti la dichiarazione della poligonale vada ad incidere sulla priorità importanza dei calcoli per determinare gli sqm ecco io non ho mai provato ecco lui ha provato e quindi lui dice che addirittura cambierebbero gli sqm in base a come tu fai la catena poligonale anche questo capire come ragiona magari lo fa anche correttamente ecco pregeo nel senso però sarebbe interessante ecco capire interessante sì perché pregeo poi hai visto che come tu cambi un qualcosa gli sqm cambiano quella quella del punto vicino basta che tu vai a prendere invece il punto più lontano lo metti come primo punto battuto e cambia completamente no in un rilievo gps dove non ti cambia nulla cioè le coordinate sono sempre quelle i punti sono sempre quelli ecco quindi tu ti ritrovi ad avere in un punto degli scarti pazzeschi che sono fuori ogni e con lo stesso rilievo solo modificando le righe la posizione delle righe va tutto a posto ecco quello che poi abbiamo detto no sergio che va bene tutto ma che almeno pregeo nella nella guida nella documentazione ti dicesse guarda che il punto che mi dai è successivo subito successivo alla base gps guarda che io te lo considero come orientamento per cui eh dammi un punto certo avrebbero dovuto anche magari dire che il 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 motore è rimasto quello del cielo di rimetrico di pregeo e quindi dicevelo quando utilizzate il gps sappiate che ha questa incongruenza perché il motore lui considera sempre come se fosse fatto un rilievo celerimetrico no quindi ti dà anche gli errori angolari sul cedere sul gps che non c'entra nulla ecco sì esatto esatto ecco ecco e quindi io mi fermerei qua adesso potremmo fare la pausa perché sono le 17 23 e ditemi voi quando vorreste ricominciare a 40 bene allora abbiamo ripreso adesso lo schermo è diciamo passato a corrado un'altra volta qui c'era però nel frattempo fabrizio che dice possiamo scaricare la guida di geocard dove sono state tutte queste nozioni lui si riferisce appunto al pdf che ho appena fatto vedere fabrizio non è la guida di geocard in effetti ho visto che nel titolino lì e in alto era rimasto perché era era nata così poi dopo in realtà ho visto che i discorsi diventavano molto concettuali per cui sta diventando un libro poi ha anche la parte poi di guida del programma mio per cui dice ti dice clicca qui clicca lì come fare però ecco quella parte lì è una parte concettuale che non fa parte della guida di geocard fa parte di questo libro che uscirà penso i primi mesi qui dell'anno prossimo sperando di avere sempre il tempo di finirlo cosa che non ho mai però ecco i pdf con quel pdf lì comunque ve lo metto già stasera ecco per cui lo trovate nei nello zip della lezione è bene con auti ti ripasso la palla a te stavo facendo un attimo ti volevo mandare il video subito beh ma me lo mandi dopo dai adesso l'importante è che diciamo che anzi lo diciamo subito perché l'abbè detto fuori dalla registrazione che è quello che ci farà vedere adesso conrado l'avevamo anche registrato in un video per cui quel video lì poi conrado me lo ve lo passa e lo metterò anche quello nel materiale così se qualcuno poi vuole rivedere tutti i passaggi e lo potrà fare vedendo quel video ecco poi tu adesso conrado precisa bene se ci sono delle differenze rispetto a quello che farei vedere oggi io ho pensato visto che hanno fatto il video di mandare anche il video perché adesso in 20 minuti in mezz'ora sarà difficile che uno possa capire tutto bene quindi in quel video quel video lì è uguale facciamo adesso l'unica cosa quando andiamo ad attribuire l'identificativo i provvisori alle particelle può darsi che siano differenti da quelli che mettiamo adesso ma il concetto è lo stesso quindi dopo manderò il video a gianni così lo lega le slide e così ve lo guardate con calma bene bene allora qui abbiamo fatto il discorso dell'elaborazione abbiamo visto un po in sintesi quelli che sono i dati che lui ha buttato fuori adesso chiudiamo tutto con le queste x rosse qua compresa questa qua e a questo punto io cosa devo fare io a questo punto qua devo andare ad associare a corrado corrado dovremmo non so se ci sono già le righe di tipo 7 il perimetro apri un attimo il libretto perché sì giustamente no quindi abbiamo finito con le righe di tipo 2 poi ci sono le 8 quindi adesso dobbiamo attribuire il perimetro al diciamo con la nuovo perimetro alla proposta cioè le linee di frazionamento quindi se vuoi corre andiamo su quelle così facciamo le righe di tipo 7 le facciamo da grafica come avevamo visto l'altra volta io ti dico i punti dovrebbero averli pensavo ci fossero già no perché poi abbiamo cancellato cioè giustamente abbiamo detto cancelliamo così mettiamo le righe di che mancano ma questa qua è la grafica sì allora noi abbiamo una riga rossa quindi che va dal punto 103 quindi parte dal punto 103 guarda un po se lo individui a questa maschera qua ok quindi le facciamo da mouse e cominciamo mettendo rosso 103 il primo 103 quindi anche ecco doveva essere giù in fondo penso guarda un po dove c'è ma no lì ok 103 poi 104 103 104 109 e 110 che sono vai verso ecco il basso 109 e 110 che però se sì sì ok ok esci pure se vuoi salvare bisogna metterci la riga di tipo 6 non so perimetro dividente chiama come vuoi accetta vetture chiudiamo e poi mancano i punti vertici e direzione anche quelli ok se vuoi raggiungerci perimetro dividente vai a cercare dove dove l'hanno messo dovrebbe essere in fondo dovete l'ha messo un attimo perché secondo me non mi ha aggiornato il libretto infatti non l'ha mica aggiornato allora torniamo a fare abbiamo detto 104 109 110 103 4 e 110 accetta vettore io non ho cliccato qua vedete per distrazione e lui non mi ha aggiornato il tutto aggiornare libretto sì ok quindi adesso mi ha inserito la nostra riga che è questa qui io mi metto nella riga usciamo da qua torniamo nel libretto qua vado a pescarmi la riga 7 che è qua in fondo mi metto nella riga precedente mettiamo la linea della descrizione mettiamo nuova perimetro dividente nuova dividente va bene ok vedete che mettendosi sopra la scrive esattamente sopra la linea 7 e poi i punti vertici e punti direzione a questo punto qua non vado ancora dentro lo schema ma li facciamo direttamente da qua quindi mi metto col cursore sulla linea sulla linea 7 che ho fatto la dividente metti una riga 6 se volevi ah vabbè lo metti dopo quindi allora abbiamo detto che 101 è un vertice è un punto vertice 101 accetta poi mi metto sempre qua l'altro qual è lo sai già 105 e 206 vertice ok anche qui se vuoi metterci una riga di tipo 6 a dividere dire che sono particolari topografici punti vertici chiama come vuoi ok adesso direi che il libretto è completo perché abbiamo la riga 0 a posto riga 9 a posto tutte le riga di tipo 1 e 2 con le varie battute la riga di tipo 7 che individua il perimetro scusate la linea di frazionamento quindi la nuova linea di frazionamento e poi i punti che servono per inquadrarlo sulla mappa va bene adesso usciamo io lo torno a rilavorare così per sì quindi tutto verde ok va bene ok allora adesso quel punto qui dobbiamo fare quello che stavo facendo prima cioè caricare l'estratto di mappa che ci è stato rilasciato dal catastro in pregeo allora Sergio noi qui l'avevamo già caricato dico bene però lo torniamo a caricare non lo ricordo sì l'abbiamo caricato sicuro però ecco non so se adesso sul nuovo libretto ce l'hai se no devi andare a cercare dove è allora allora è 88 ok questo qua li seleziono tutti e due apri infatti esiste già io gli dico di sì ok adesso scusa ecco Rago qui c'era un po' di commenti Jonathan dice attenzione che le righe 7 vanno alla fine sotto le righe 8 dei PF e poi dice le righe 8 devono necessariamente rimanere come ultime quindi qua dice prima una roba sì ma non ho guardato perché li ha inserite ma mi sembra che fossero le righe 8 fossero in fondo ecco non ho guardato guarda nel libretto guardaci un po' Corrado ma dovrebbe essere giusto sì ci sono le righe 7 e poi le righe 8 sono le finali ok magari non l'abbiamo detto sì questo sicuramente ecco va detto cioè l'ordine era un po' quello che Gianni avevamo già detto all'inizio quando abbiamo fatto il pregeo quindi diciamo che facciamo un attimo un riepilogo prima riga di tipo 0 ovviamente è la prima riga poi la seconda riga obbligatoria di tipo 9 è la seconda riga poi se ci sono delle catene diciamo di poligonali vanno le righe 3 che vengono diciamo messe subito dopo la riga di tipo 9 poi ovviamente inizia il rilievo che è composto da righe di tipo 1 che riguarda il punto stazione e righe di tipo 2 che riguarda i punti battuti sono in serie quindi se ho più stazioni avrò una riga 1 e più righe 2 e poi tornerò sulla nuova stazione avrò di nuovo una riga 1 e più righe 2 ecco quindi diciamo l'ordine è quello poi diciamo al fondo del finito rilievo quindi punti battuti finito i punti battuti dopo la riga 2 iniziano le righe di tipo 7 che sono quelle che vanno a definire il contorno della nostra particella quindi abbiamo una riga di tipo 6 che è descrittiva e poi la riga di tipo 7 che è quella che indica il contorno e poi abbiamo i punti di inquadramento che anche loro sono in riga 7 quindi abbiamo una riga di tipo 6 che serve a definire che cosa sono quei punti lì e poi le righe di tipo 7 che li vanno a comprendere in questo caso ne abbiamo 3 quindi 101, 205, 206 mi sembra e poi si chiude con le righe di tipo 8 che devono essere in fondo Sì, Sergio, per completezza ci sarebbe anche da dire che se fosse rilievo GPS subito dopo la riga 9 andrebbero le righe 1 e 6 della base GPS Diciamo che se fosse rilievo GPS probabilmente non ci sarebbe la catena poligonometrica perché non avrebbe senso nel senso che difficilmente vado a creare un rilievo GPS con una catena di poligonale ma potrebbe anche succedere Sì, perché se poi lo integri magari hai bisogno di fare... Sì, appunto, se io lo integro poi con delle stazioni che sono più di 3 in linea lui ovviamente andrebbe inserita comunque ecco, quindi diciamo che dopo la riga di tipo 9 se ho un rilievo GPS normalmente c'è la riga di tipo 1 che viene integrata dalla riga di tipo 6 perché non tutti i dati riescono a rimanere codificati nella riga di tipo 1 e quindi viene aggiunta una riga di tipo 6 altrimenti in questo caso che c'è l'erimetrico ovviamente abbiamo righe di tipo 1 e righe di tipo 2 che sono la stazione, i punti battuti da quella stazione Ecco, poi sarebbe anche da dire, tanto per ribadire il concetto che sia che tu abbia un rilievo GPS sia che tu abbia un rilievo solo celerimetrico cosa bisogna avere l'avvertenza? Quello che dicevo prima lì col pdf mio che tu in pratica la prima riga 2 quindi il primo punto che metti che sia GPS che sia celerimetrico se è GPS e la prima riga 2 dopo le righe 1 e 6 della base se è celerimetrico dopo la prima riga 1 della prima stazione cerimedrica lui quel punto lì lo considera come orientamento dell'intero rilievo Sì, quindi diciamo che sarebbe bene ricordarsi di non mettere ovviamente magari un punto a 50 cm adesso con la stazione totale diventa anche magari difficile battere un punto troppo vicino però ecco sicuramente dall'esperienza che abbiamo avuto sarebbe bene che il primo punto battuto dalla stazione 100 sarebbe bene che sia un punto abbastanza lontano in modo che possa essere come orientamento possa tenere gli SQM bassi Ecco poi qui c'era un po' di come Jonathan dice dire che è possibile editare direttamente sul libretto sì, questo l'avevamo già detto ancora alla terza lezione che se uno vuole può scrivere direttamente lì su questa schermata di testo nel libretto oppure fa doppio clic sulla riga e edita con le mascherine questo non farsi a... Sì sai cos'è ha ragione Jonathan però può succedere che se uno non è esperto magari uno giovane se digita sulla riga rischia di dimenticare dei campi che pregio chiede nel senso il trattino e quindi conviene utilizzare la maschera dei dati perché quelli lì almeno sono codificati e uno non rischia di sbagliare Esatto poi Jonathan c'era lì al 4 e 5 vabbè se ci sono lì al 4 e 5 l'abbiamo visto anche lì in adizione 3 vanno messe Sì vanno messe dopo la riga di tipo 2 cioè dopo l'ultima riga di tipo 2 vanno messe le righe di tipo 4 e 5 ovviamente Non riesco a capire cosa voleva dire Jonathan che abbiamo messo le righe 7 nel posto sbagliato No ma forse non aveva visto le righe 8 sotto cioè nel senso giustamente No lui forse ed è giusto dirlo ma tutti ha rimesso corretto che le righe di tipo 7 vanno messe diciamo prima delle righe di tipo 8 ecco quello lui voleva dire Ha detto prima prima aveva detto il contrario però va bene insomma questo era il concetto e poi c'era Giuseppe che dice forse dovrebbe descrivere a cosa corrispondono i PV punti vertici in una relazione tecnica Sì adesso la relazione tecnica va compilata Esatto e poi adesso finisco così almeno questi commenti qua Alberto dice che sarebbe opportuno far vedere che prima di associare l'estratto al libretto questo deve essere caricato in pregeo acquisendolo dalla cartella dove lo abbiamo inserito scaricandolo dall'agenzia delle entrate Sì beh certo diciamo che il libretto pregeo cioè l'AMP lo chiediamo all'agenzia delle entrate quindi andiamo sul sito l'avevamo forse visto l'altra volta Tu Corrado hai il collegamento un attimo solo per entrare e far vedere Sì l'abbiamo visto mercoledì scorso adesso lui però diceva che sarebbe da far vedere come lo carichi acquisendolo Tu Corrado hai la possibilità su quella macchina Non riesco mica io Al limite poi lo facciamo vedere al limite se poi mi passi il video dopo quando abbiamo finito lo faccio vedere magari io Sì ok dai andiamo avanti No adesso qua scriviamo la relazione tecnica teoricamente qua bisogna scrivere tutto quello che abbiamo fatto Certo non so se volevi se c'era quello pieno potevi andare a prenderlo e copiarlo ma se no poi vabbè la relazione tecnica al limite poi la vedono in quella che Gianni allena Comincio a scrivere poi dopo qua è chiaro che uno scrive tutto quello che ha fatto Scusa non abbiamo quella effettiva Sì ce l'abbiamo se apre il librettino Corrado è che deve uscire di qua capisco che gli rompiamo e scanto Comunque dovrei aver salvato la relazione Ah eccola lì sì ecco questa qui era la relazione un pochettino che Ecco fai un coppia e incolla così ecco ti facciamo lavorare qua oggi adesso qua ci sono i miei nomi quindi c'è il nome mio qui nella relazione il nome di Sergio comunque no vabbè adesso vabbè quello perché l'abbiamo pasticciato più volte quindi salviamo e usciamo sì se volevi solo la relazione se voleva solo dargli un'occhiata velocemente per vedere i punti ecco comunque nella relazione tecnica bisognerebbe scrivere un po' quali sono le particolarità che uno incontra durante il rilievo se ci sono situazioni particolari conviene giustamente scriverle e buona regola sarebbe scrivere tanto anche se anche qua ci sono due correnti di pensiero Gianni chi dice che la relazione tecnica è un documento importante che bisogna scrivere e altri invece che che dicono che bisogna scrivere il meno possibile perché si occupano byte al catastro no quindi no vabbè c'è anche chi dice che scrivi il meno possibile perché sei meno attaccabile da una parte meno cose scrivi meno puoi essere attaccato questo è comunque diciamo qui cose particolari qua cosa c'era beh qui io dico quali sono dico dove si trova il rilievo quindi foglie che ho utilizzato quattro punti fiduciali che per collegare questi quattro fiduciali ho usato cinque stazioni celerimetriche dico che le stazioni 300 400 500 sono esterne al triangolo fiduciale ma rientrano nelle tolleranze poi dico che il pf11 del foglio 25 è risultato inaccessibile e che quindi per rilevarlo si è utilizzato perché erano una proprietà recintata e quindi per rilevarlo si è rilevato solo angolarmente da tre stazioni in modo da formare due triangoli con lati e angoli conformi a quanto previsto da circolare poi spiego qui come ho fatto dare l'altimetria a questo pf qui poi dico che per rendere rigido e per determinato il rilievo sono stati battuti dalle varie stazioni sono stati ribattuti dalle varie stazioni 200 e 400 500 e 300 alcuni punti già ribattuti dalle altre e quindi questo serve per rendere il rilievo rigido iperdeterminato e poi ecco io qui dico è una situazione che metto sempre questa qua dico i punti 103 e 110 che sono quelli che sono posti all'estremità della linea di frazionamento non sono ubicati necessariamente sui confini della particella oggetto di frazionamento ma individuano la direzione della linea di nuovo confine che andrà a chiudere sui confini neri della particella esistente quindi io qui vado a dire che quel punto 103 Corrado riesce a prendere un attimo la grafica scusa io questo qua ho preso l'abitudine di dirlo sempre quindi il punto 103 e 110 che è all'estremità dall'altra parte appunto io dico che non necessariamente vanno sono sulla riga nera ma vanno a individuare ovviamente l'orientamento che deve avere quindi se poi uno domani facesse un riconfinamento del confine o quello a nord o quello a sud ovviamente dovrà estendere questa riga fino al cioè la deve considerare stesa fino alla linea di confine poi dico per poter ricostruire in futuro il confine in modo certo si sono rilevati oltre i punti fiduciali alcuni punti fissi e stabili e precisamente il punto 105 spigolo ampliamento cimitero i punti 106 107 108 spigolo basso fabbricato presente sul mappale 77 del foglio 25 il punto 203 spigolo ovest pilastro cancello mappale 210 del foglio 25 i punti 204 205 206 spigolo cappelletta est cimitero i punti 207 208 spigoli verso strada fabbricato mappale 479 del foglio 25 quindi ecco diciamo che la mia relazione finisce qua e poi metto i dati come ha messo Corrado i dati del tecnico che se dovesse diciamo che era comunque obbligatorio per circolare metterlo poi ho visto che molti sul libretto delle misure non li riportano ma sarebbe da riportare bene allora andiamo avanti abbiamo caricato l'estratto che giustamente quando uno lo scarica dal sito dell'agenzia vengono forniti in modo zippato con il codice fiscale del tecnico tre file che sono due quelli che abbiamo caricato più c'è un pdf che è la ricevuta del costo dell'estratto che sono 44 euro fino a 5 particelle penso adesso è Sergio 5 dopo c'è un costo per ogni particella aggiuntiva uno se lo mette nella cartella che vuole e quando lo deve caricare lo va a selezionare nella cartella in cui l'ha messo allora a questo punto cosa dobbiamo fare il nostro libretto è elaborato e dobbiamo associare a il nostro libretto che è questo qui ok il rispettivo file che abbiamo caricato che me lo mette qua in alto ecco Corrado volevo dire adesso lui che ha fatto molto velocemente quella schermatina lì che è scorsa via veloce lì l'associazione Gianni associa il file diciamo mp al file al libretto vedi che lo so lo so ma volevo dire lì può capitare che si impianti qualcosa che ti dica qualcosa o va sempre via liscia la storia lì può capitare che non te lo associa quando il libretto non è elaborato perché delle volte uno fa delle piccole modifiche poi si scorta di elaborarlo ma poco lo dice altre cose in fase d'associazione io non ho fortunatamente viste poi dopo anche io anch'io ma penso che ci sia problema bisogna richiedere al catasto un nuovo estratto cioè nel senso se ho già pagato devo sentire l'URP e vedere poi di fare in modo che mi rimandino un estratto perché a me non è mai successo anche a me l'ha sempre associato senza problemi andiamo avanti uscita a questo punto possiamo fare la stesura della nostra proposta del giornamento ecco però lì non hai tanto fatto vedere che hai selezionato l'associazione dei libretti ecco Rado sei andato via veloce che non si è tanto visto no ho fatto vedere comunque dopo quando mandiamo il video se no non finiamo mica più ok 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 allora io accendo solitamente anche il raster subito così rivediamo la mappa sotto allora la prima cosa da fare è andare a orientare il nostro rilievo con quel tasto che c'è qui e andiamo a orientarlo utilizzando i punti vertice che abbiamo inserito va bene Sergio? sì giusto quindi infatti ecco servono quelli i punti vertici allora il primo punto che abbiamo inserito qual è? il 101 il 101 quindi facciamo uno zoom qui prendiamo il 101 ed è il ricrocio ecco lì ok e lo mettiamo qui e quindi vado col tasto di sinistra clicco sul punto 101 diventa giallo diventa giallo e vado con dove voglio spostarlo ecco e diciamo che se clicchi diventa verde ok adesso lui ha fatto questa rotazione qua torno indietro con questo tasto qui vado a prendere l'altro punto l'altro era il 200 quelli dove c'è la cappelletta del cimitero 205 206 torno indietro con questo tasto con questa freccia prendo questo zoom 204 205 quindi 204 è lo spigolo a este ok della cappelletta quindi diventa giallo vede ok lui dice che non è un punto dell'estratto io gli dico fa lo stesso e lui mi mette mi sposta il 206 se vogliamo metterlo a posto possiamo mettere anche quello basta come vuoi tu ma io direi basta perché comunque sì sì bastano due punti diciamo che uno potrebbe utilizzare anche più punti ecco ecco come vedete qui adesso diamo ok adesso dobbiamo andare a chiudere le linee sulla cartografia con quell'altro comando qui che è l'adattamento del rilievo lui dice che chiaramente ci sono quei due punti lì che non si chiudono quindi facciamo vederlo manualmente come si fa sì beh Corrado potresti anche far vedere perché può succedere che hai tanti punti adesso qui è abbastanza semplice se clicchi sul punto 103 lui si avvicina lì e fa l'ingrandimento se tu vai in quella tabella diciamo dell'elenco vertici adesso in questo caso ha poco senso però poi dopo ecco su 110 prova e vedrai che dovrebbe essere io preferisco fare vedere lì anch'io però se hai tanti punti ecco se ad esempio adesso clicchi sul 103 provaci a cliccare sopra sulla mascherina Corrado sulla mascherina Corrado ecco lui dovrebbe se funziona clicca due volte sul punto 103 adesso ho preso il comando a destra nel sinistra vengo giù ecco ma devi venire giù te è bello lo posso far fare in automatico anche in questo caso l'ho fatto venire giù io erano scostamenti minimi ma anche perché sai io adesso dico la verità il pregeo non è un programma che ami molto però se lo fai anche gli aumenti il raggio lui ragiona come raggio a me non è che piaccia molto quel discorso di aumentare perché ragiona come se fosse un raggio non ragiona come se fosse una linea e va dritta e se mai capito lui tende a lui va sul punto più vicino che riesce a intersecare a fare con una circonferenza e quindi non è che mi piaccia tanto quel comando è vero vero beh poi passiamo al tasto successivo sono tutti in ordine sequenziale salviamo e passiamo al frazionamento dell'estratto gli diciamo ok e clicchiamo su quell'altro tastino qui che è uguale se lui va a creare tutti diciamo il frazionamento delle particelle tutti i varmi ecco vado quello spiegamolo però quindi il discorso del dollaro scusa Corrado spiegamolo questo perché magari quelli che sono nuovi non sanno bene dal 99 ha creato le due rispettive particelle 99 dollaro 1 dollaro 2 e dal 77 ha creato dollaro 1 e dollaro 2 che sono questi due mappali qua adesso noi non possiamo lasciare questi dollari qui quindi cosa facciamo andiamo non abbiamo niente da accorpare perché non possiamo accorpare le particelle perché in questo caso qua sono e qui frazioniamo non avrebbe senso poi sono di proprietà diverse quindi bisogna stare attenti a quella cosa qua se uno fonde lui beve tutto dopo però uno paga il conto perché quando lo controllano posteriori ve lo annullano quindi bisogna stare attenti a non andare a fondare delle cose quindi passiamo al tasto successivo che è questo che ci dice di andare a aggiornare i codici delle particelle allora ti ricordi c'hai sotto il pdf che così vediamo mi sembra che sia 77 dollaro 1 a a allora questa qui ho cliccato qua sopra mi si è evidenziato in blu qua e vado a scrivere a a a e poi do invio sopra la tastiera del pc poi 77 dollaro 2 ci clicco sopra col pulsante di sinistra del mouse si evidenzia qui a a b a a b no mi ha preso sempre questa scusate ok poi la 99 1 a c questa è uguale al pdf che abbiamo fatto l'altra volta che hanno mi sembra non lo so aspetta aspetta però non cambia niente si si è uguale a c si si è giusto comunque quello che vi volevo dire prima quando guarderete il video scusa per quelli nuovi bisognerebbe anche dire qui appunto che si parte con tre a e poi man mano si diciamo che poi ovviamente si parte normalmente si fa con tre con tre però potresti anche scrivere Gianni a a a b b b c c c d d d d cioè ognuno poi lì fa un po' come vuole sono diciamo che sono identificativi letterali tanto vengono poi trasformati dal catastro i numerici però diciamo che la convenzione è un po' questa qui insomma sì diciamo che sì però è una convenzione che c'era forse più più qua più prima che era quando c'era l'operatore no a noi capitava quando c'era l'operatore che voleva magari un determinato modo di indicarlo e se glielo non glielo indicavi così ti fermava il pregeo adesso invece fortunatamente queste cioè queste anche queste cose un po' obsolete sono passate perché essendo un codice numerico scusami letterale cosa cambia dire A A A B o A A A B B B B C C C tanto è sempre un identificativo quindi diciamo che secondo me è poca importanza l'importante ecco è che devi dare un'identificazione letterale che poi verrà trasformata in numerica dal catastro nel momento che viene che viene lavorato bene andiamo avanti quello che volevo dire è che quando guarderete il video può darsi questi identificativi provvisorici sono diversi però il concetto è uguale certo ok adesso schiaccio su questo pulsante verde dove c'è scritto accetta franzionamento estratto di mappa dove ci sono i doppi baffetti bene poi vado qui procedo sempre in ordine sequenziale clicco qua sopra e lui mi aggiona l'estratto e lo salvo con questo dischetto con attenzione perché adesso lui cosa fa esce da tutto se uno si scorda di andare a dire la parolina magica conferma proposta di aggiornamento saltano tutti i giochini quindi quando lui esce da queste maschere bisogna andare a dire conferma proposta di aggiornamento allora vi compare questo messaggio in cui dice proposta di aggiornamento confermata ok non bisogna scordarsi quella cosa allora questo qua è il classico frazionamentino dove uno può far fare in automatico il modello censuario sconsiglio vivamente in casi più complessi di farlo fare a lui perché spesso fa più casini che cose utili quindi in questo caso torniamo dentro in questa maschera qui e ridiciamo crea modello censuario da proposta di aggiornamento allora adesso andiamo a controllare circa che le superfici vadano bene diciamo ok salviamo il modello e andiamo dentro a vedere cosa ha combinato allora la prima cosa da fare è questa qua si clicca sopra alle particelle originali vedete qui che c'è scritto 1 no? ma la vado a prendere io la 77 e vedete che adesso scrive 0 1 voi direte è una stupidata 1 0 1 è uguale perché si inchiodano i lavori quindi bisogna ricordarsi di andare dentro le due particelle originarie e se le fare selezionare dalla tendina scusa Corrado forse qui Sergio dovremmo un po' dire almeno cosa vuol dire OSC originaria soppressa costituita perché ripeto abbiamo purtroppo dei ragazzi giovani ok però adesso Gianni non possiamo dire tutto adesso facciamo vedere poi mandiamo no no ma per carità solo queste tre robe qui ecco c'è O sta per originale e quindi identificano il modello censuario sia abbastanza diciamo leggibile clicca un po' sulla 77 così facciamo l'originale è la 77 che era la particella originale dice appunto quant'è la superficie Corrado l'ha fatta prendere dalle MP cioè lì praticamente lui va a leggersi diciamo le MP ecco quindi è andata a prendersi la superficie delle MP la qualità e la classe e tutto scusa bisogna prendere dall'insergio perché se no sbaglia e mette invece di 0.1 anche se forse l'ultima versione ho visto che dà meno problemi probabilmente anche questa situazione qua l'hanno un po' migliorata però non è sbagliato cioè tu giustamente hai l'abitudine perché una volta effettivamente capitava che poi non ti te lo fermavano perché era 1 e non 0.1 ma adesso mi sembra che funzioni lo stesso però ecco è bene sempre guardarlo ecco il divicensuario perché siamo noi tecnici che lo dichiariamo e va quello in banca dati ecco quindi bisogna giustamente porci attenzione ok quindi la O vuol dire originale ovviamente l'abbiamo soppressa quindi il 77 viene soppresso come particella e abbiamo visto che abbiamo frazionato abbiamo costituito due particelle che C e C che sono una la A che è stata costituita di in questo caso qui cliccaci un po' sopra Corrado non vedo perché è piccolino faccio fatica a vedere è di 6.082 metri e l'altra è la A B che è di 118 metri bisogna sempre fare la somma conviene sempre anche diciamo con la calcolatrice a mano fare la somma e vedere che la sommatoria tra la A e la B sia diciamo in tolleranza anche se adesso con la nuova versione ci avvisa comunque quando usciamo però conviene sempre controllarla e niente ecco poi la stessa cosa abbiamo fatto con il 99 Gianni abbiamo fatto originale 99 l'abbiamo soppresso abbiamo costituito la AC e la AD e quindi ok ok adesso quando Corrado esce che lo conferma lo schema gli dice se è tutto a posto quindi se ci fosse un errore in teoria dovrebbe accorgere fai un po' salva dice si Corrado potremmo fare una prova tanto così per vedere se se ne accorge prova a entrare nuovamente a mettere sbagliata una superficie cioè cambiala di qualche metro vediamo se se ne accorge ecco quindi accetta se ne accorge si salva ecco vedete che se ci fosse sbagliato lui dice particella ti segnala che c'è un problema dice guarda che quel modello censuario ha un problema poi c'era Stefano che dice che effettivamente viene respinto automaticamente se hai sbagliato lo 0-1 sì sì no 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 però mi sembra ultimamente che meno cioè perché anche a me capita di guardarci alcune volte magari lo fa il mio collega e ci guarda meno e quindi cambiateli non vi costa nulla sono un secondo a fare una cosa così bene ok bene adesso possiamo uscire da qui abbiamo salvato una cosa che potevamo far vedere Corrado prima di fare poi la proposta no se uscivi si esce esce pure qui esce era andare nella gestione strati di mappa far vedere la gestione l'ultimo in fondo se apri gestione grafico ecco adesso qui è molto semplice quindi non è fai azioni ecco se io vado fagli vedere quest'operazione no se gli dico appunto vado dentro gli dico controlla modelli in azione io qui riesco cliccando sulle particelle vedete a controllare qual è la superficie grafica la superficie sensuaria no e mi può essere utile quando devo poi andare a adesso qui è molto semplice come frazionamento ma se fosse un frazionamento complicato mi aiuta a definire poi le superfici che devo che devo dare ecco siamo stati anche bravi a fare la proposta cioè vedo che però lì le sigle di quelle piccoline lui te le fa vedere solo se solo quando ci vai cliccare sopra lì nella grafica sono i buchi magici di Pregeo ok quindi adesso possiamo fare la materializzazione del materializzazione dell'atto di Pregeo allora servizio predisposizione atto di aggiornamento per la presentazione in ufficio allora clicchiamo qua esito dei controlli positivo lui dice la distorsione tra quella cartografica è rilevata è maggiore ma per quanto riguarda i punti fiduciali perché noi abbiamo fatto giustamente un orientamento locale che è quello che bisogna fare a meno che uno non abbia nulla però l'orientamento va fatto locale quindi lui qua adesso va guarda e visto Gianni che distorsioni che vengono fuori sui PF e vedi che lì l'1,50 famoso è proprio il dato che lui riporta è rilevato da quella cartografica quindi rilevato dall'AMP sì 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 qua i scarti sono notevoli però non è da stupirsi dimmi il numero dai 2171 codice fiscale VLD SRG 67 D09 A052 Roma si vuole predisporre l'atto per l'invio telematico sì e poi qui non c'è modo di dirgli che non l'hai presentato in comune infatti quello che è importante perché è un TF ovviamente quindi se tu ti dovessi sbagliare all'inizio in riga 0 o in riga 9 scusa mettere che cos'è ovviamente qui te ne accorgi ecco se fosse una divisione realitaria donazione così uno clicca qua e poi dopo mette quello che è andiamo ok quindi scusa lì scusa Corrado lì se non gli dai quello spunto lì non vai avanti quella è la dichiarazione che noi abbiamo depositato in comune Gianni quindi se tu dai la spunta e non lo fai lo spunto lo dai dopo non è detto che l'hai classo catastro terreni la ditta compare già nell'estratto se no se fosse stato un interurbano la ditta non compare lì la devo andare a visitare adesso forse lì Corrado abbiamo modificato noi perché erano dati sensibili le MP ci dovrebbero essere i dati delle due ditte dovrebbero essere due in teoria perché erano due proprietà diverse però lo diciamo perché se uno lo dice li abbiamo taroccati noi ecco quindi fine inserimento fine inserimento due clic qui perché quello che firma è lui in caso fosse una società qui all'epoca non c'era questo era ancora il pregeo precedente però adesso essendo il comune l'ente pubblico avrebbe dovuto firmare il rappresentante dell'ente quindi si sarebbe dovuto inserire i dati si clicca qua si mette il nome della persona fisica che firma per conto del comune o della società o della società si risca la lettera d'incarico no ecco sulla lettera d'incarico Corrado diciamo che quando firmano tutti ovviamente non c'è problemi e quindi la lettera d'incarico anche se uno eventualmente se la fa firmare può anche dire che non c'è perché comunque viene firmato l'atto quindi non c'è problemi nel caso invece ci siano più soggetti e non tutti perché magari non possono venire a firmare tutti quindi non tutti possono firmare allora in quel caso lì si mette la lettera d'incarico e ovviamente si dice di sì e quante lettere d'incarico si hanno perché se ne dovrebbe avere una per ogni soggetto che firma ancora l'ha letta ok allora andiamo avanti a cascata informazioni generali ci si clicca sopra e lui ci pensa a lui inserirle informazioni geometriche produci modello ok allora qui geometriche censuario produci modello geometriche che cos'è è un estratto rilasciato dall'ufficio quindi clicco qua sopra inserisci estratto vado subito a mettere la scala di riferimento dell'estratto originale che è il 2000 poi a questo punto qua posso dire sposta testi seleziono il testo questo qua lo spostiamo così però in questo caso qua potremmo anche fare disegnare esterno vogliamo fare una cosa un po' precisa poi seleziona il testo sposta testo lo mettiamo qui seleziona testo sposta testo lo mettiamo qua e questo lo mettiamo qua ok ottimo conferma e chiudi operazioni archivia disegno non bisogna scordarsi eh sì se no bisogna rifarlo operazioni esce in questo caso se io gli dico inserisci nuovo estratto perché ho dei particolari o un estratto grosso che non riesco a rappresentarlo tutto in un pezzo tutto quanto inserisci nuovo estratto lui me ne torna a buttare dentro un altro e lo metto nella scala che voglio ma il primo è sempre opportuno metterlo nella scala originaria dell'estratto di mappa in questo caso non ne mettiamo un altro perché è tutto chiaro si vede molto bene dico conferma gli dico di mettere il libretto delle misure e la famosa relazione tecnica strutturata noi qui eravamo in zona extraurbana dico bene Sergio sì sì non era appena fuori dall'estraurbano appena fuori dall'urbano allora ho sbagliato a far vedere prima il controllo delle misurate perché avevo dato urbano di espansione urbanistica allora noi urbano di espansione adesso lì sei vicino al cimitero non posso nemmeno costruire però è uguale comunque anche se metto questa gli scarti erano ottimi quindi non cambia nulla in questo caso si evidenzia per il discorso delle particelle inferiore ai 2000 metri che uno dovrebbe rilevarle tutte e quindi io clicco qua sopra e lui in automatico mi scrive che le particelle di superficie inferiore ai 2000 metri quadri sono state rilevate integralmente i quanti confini non sono materializzati interamente la committenza non ha richiesto la materializzazione e questo scusa lo propone già lui sta frasettina nella versione precedente c'era un buco che non lo proponeva quindi era opportuno riportarlo nella relazione tecnica adesso ha sistemato con l'ultima versione quindi lo scrive lui bene ok non è relazione tecnica ma è a carica schema del rilievo allora qua andiamo subito nella scala e lo mettiamo al 4000 che si vede bene ci manca un pf quindi zoom centro lo vado a centrare mi sposto un po' sotto in modo tale che salvi è stato leggermente troppo va bene ok anche qui posso spostare dei testi però dopo questa cosa qua è meglio farla vedere nel particolare qui ci sono delle sovrapposizioni di punti e uno se vuole può andare sì diciamo che soprattutto se poi viene dato il tipo al cliente ovvio che se lo cura un po' graficamente è leggerissimo forse poi lì Sergio perché noi avevamo dato un nome diverso ma poi si poteva anche dare il nome del pf univoco no 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 allora no lì il il 502 il 402 l'abbiamo presi dalla stazione 400 e 500 utilizzando la battuta senza prisma l'abbiamo preso per la verifica ed era anche una verifica dell'altezza dei pf perché non avevamo la quota cioè non eravamo sicuri della quota avendo fatto un'intersezione in quota praticamente quindi l'abbiamo fatto per quel discorso lì ecco però sono due punti battuti uno dalla 400 uno dalla 500 quello sì ma di fatto è lo stesso punto che abbiamo battuto no 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 di fatto abbiamo mirato più o meno nello stesso punto era il davanzale mi sembra avevamo preso vicino al davanzale cioè mirevamo il davanzale e poi andavamo sullo spigolo per vedere avere un'altezza di di riferimento qua mettiamolo in una scala un po' più grande vediamo se sta dentro tutto mi sa che non ci stai secondo me devi fare centro sopra dove c'è il 107 un po' più in su devi stare ma già anche il 2000 si vede benissimo quella roba sì no vabbè anche qui mi diverto da spostare un po' di roba dopo tutto ripetitivo insomma anche qui archivi a disegno mi raccomando e esci quindi ok quando è tutto a posto viene quella approvabile e quindi diciamo che il tip è approvabile adesso Corrado lo può scaricare ovviamente pronto da firmare digitalmente e mandare via all'ufficio ancora una cosa Corrado se volevi far vedere che almeno può succedere quindi anche i colleghi lo vedono aspetta che faccio vedere prima il pdf come vedete qua lui ha creato il pdf Alessandria tipo di frazionamento si dice che la dichiarazione che è telematico che viene inviato telematicamente è la dichiarazione che è stato depositato presso il comune quindi è una dichiarazione ai sensi della legge quindi attenzione quando si fa qua ci sono i dati di chi firma del tecnico non guardate il mix tra il suo nome e il mio perché solo per riportare l'esempio nella relazione tecnica c'è il mio nome qua c'è il suo deve essere un'unica persona che compila tutto questo deve essere chiaro non posso essere uno che firma la relazione e uno che firma il tipo noi qui abbiamo fatto così solo per farvi vedere poi qua c'è il modello censuario quindi è tipo di frazionamento modello censuario vedete scritto qua frazionamento qua è quello che abbiamo visto prima dove 0101 le somme tornano qui c'è quello che abbiamo preparato adesso nella scala al 2000 vedete poi se ne potevano aggiungere altri anche qui c'è tutte le famose righe dell'estratto che viene rilasciato dall'ufficio quello originario e poi c'è quello e poi proposta di aggiornamento cartografico che è la proposta che viene fatta dopo qui c'è il libretto delle misure dove ci sono tutte le righe che abbiamo inserito ipf la relazione tecnica strutturata e poi c'è la relazione tecnica ecco vedete qua c'è il mio nome ma dovrebbe esserci quello di Sergio quello che abbiamo scritto che abbiamo visto prima e alla fine c'è lo schema di rilievo per il nostro sviluppo allora adesso io volevo in anteprima farvi vedere che così dopo lo vedete poi da soli allora dunque il video eccolo qua bene allora vediamo la proposta di aggiornamento come è stata trattata nella leggiata corrado ti sentiamo se ti sentiamo sì no perché stai sentendo il video ho capito ecco ok ok scusa ho pensato forse ancora lui no 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 era lui ma due anni fa vabbè niente Gianni adesso io no sai Corrado ancora una cosa se volevi far vedere che mi era venuta in mente se dovessi cancellare un elaborato grafico quando fai diciamo l'invio far vedere come far a togliere non so se ti è mai capitato quando hai più pagine che poi ne metti troppe poi devi toglierne una o vogliamo far vedere quella cosa qua ah solo quella cosa lì perché può essere utile no può succedere adesso è una stupidaggine perché poi si fa presto però cioè allora facciamo vedere quando vai nella proposta devi tornare dentro la di nuovo fare la proposta da capo ecco quindi perché ormai l'hai fatta quindi ecco era prima di uscire infatti te l'avevo detto ma poi eri già uscito ma torniamo a fare sì ma soltanto andiamo molto veloci adesso qui è solo per vedere quella cosa lì ok quindi qui andiamo avanti come avevamo fatto prima continua i dati qua ci sono già telematico va bene confermiamo ecco qui inserimento va bene fine inserimento ecco volevo dire ecco ok produci quello lì ok va bene ecco qui quindi vedi che le informazioni geometriche ci sono già aspetta torna fai uscita un attimo esci vedi che c'è già mi sembra no la informazione geometrica vedi che c'è pagina 1 perché l'avevamo già inserita se dovessimo rifarla perché abbiamo cambiato qualche cosa dobbiamo andare a cancellarla ecco quindi fagli vedere come si fa ecco seleziono qua c'è solo pagina 1 sì ha i dati selezionati e lui e adesso la rinserisco cioè avete capito viene utile se io per caso ho cambiato qualcosa nella proposta aggiornamento lui pregeo ha tenuto buona quella che era la precedente e quindi va cancellata ecco va messa quella nuova va beh adesso solo questo far vedere che se se per caso uno deve deve modificare deve cancellare la proposta allora adesso qua c'è il video che è questo qui quindi ve la riguardate quando volete con calma poi se c'è qualche cosa scrivete sul forum sì Corrado allora mi riprendo il monito perché volevo far vedere che oltre al video poi qui ci sono anche tutte le slide per cui vedete qui c'è proprio passaggio per passaggio tutte le slide di quello che ha fatto vedere Corrado probabilmente qui può essere che sia qualche dato diciamo diverso appunto per quanto riguarda le particelle lettere ma sostanzialmente il concetto è quello quindi qui avete proprio anche tutte le slide passate per passaggio anche se credo che il video sia molto più di aiuto perché ora vedi proprio fisicamente quale tasto clicchi quale opzione fai però ecco c'è anche questo da dire invece qua c'erano delle domande c'era Gaetano che dice la subizia da MP è identica a quella che posso leggere in misura adesso io non ho ben capito cosa volesse dire qui Gaetano sì 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 no no certo certo allora in MP vengono riportati due dati una che è la superficie censuaria e quella lì è quella della visura assolutamente e una invece che è quella grafica che invece è la superficie che graficamente ha quella particella quindi nell'MP ci sono tutte e due però poi quando Corrado ha fatto il modello censuario quella che si vede quella che io posso andare a prendere sul modello censuario è quella della visura ecco quindi è quella che c'è in banca dati della visura poi c'era Alberto ma non Fabrizio un altro Alberto che dice posso fare una lettera di incarico con i nomi di tutti gli aventi diritto e poi prosegue dicendo posso fare una lettera di incarico il cui solo firmatario si dichiara delegato agli altri aventi diritto sì mi sembra di sì che ci sia nel modello che si anzi sì può farlo può farlo è uno che dice che ha preso lui tutte le le firme degli altri che non ci sono diciamo nessuno che si oppone quindi l'importante ecco che se lo fa deve avere la firma eventualmente io mi faccio anche dare il documento di identità di chi firma e mi tengo anche lì il documento di identità ecco se diciamo che sì tieni conto che in quel discorso lì il catastro prende per buono quello che noi dichiariamo poi in caso di controllo ovviamente se vengono fuori problematiche bisogna avere tutte le situazioni regolari ecco cioè quindi sapere che sono stato incaricato che che eventualmente se c'era qualcuno che non voleva il perché qualcuno non volesse quindi ecco io devo come tecnico devo essere tutelato avere la lettera di carta avere tutti i documenti tutti i documenti che mi ecco mi autorizzavano a far quell'atto ecco certo poi c'era Paola che dice manca quota di proprietà della ditta può essere motivo di sospensione no 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 anche se mi sembra di aver letto in qualche cioè qualche collega che in qualche catastro forse lo volevano però non è obbligatorio mettere assolutamente le quote quindi ok poi c'è addirittura diciamo che dove sull'MP ci sono se le mette lui cioè quindi prendiamo già il dato dall'MP se eventualmente sono ditte che non ci sono perché sono enti urbani quindi ditte che non sono state caricate perché ecco gli enti urbani non hanno cioè non praticamente non hanno l'intestazione ecco perché non hanno l'intestazione ecco in quel caso lì diciamo io devo mettere nome e cognome data di nascita codice fiscale località di nascita e codice fiscale mi sembra che siano i dati richiesti ok poi c'è Alberto Fabrici che dice se si fa una modifica non geometrica ad esempio la relazione tecnica non serve elaborare il libretto ma basta passare alla presentazione del libretto all'ufficio sì vabbè però adesso in questo caso qui era un frazionamento quindi qui andava fatta ecco sì la relazione tecnica se uno modifica delle cose non c'è bisogno di rilaborare nulla solo per la relazione poi Carlo dice se un cointestato si oppone non posso presentare il modello non so se è una domanda diciamo che in teoria no cioè no in teoria no perché effettivamente se lui è un cointestato ha anche lui i diritti però ecco io devo saperlo quindi nella lettera di incarico mi deve dire che tutti gli altri restanti cotitolari sono a conoscenza perché può succedere il caso che effettivamente dice la persona che dà l'incarico di Alessandria e tutti gli altri cotitolari vivono a Milano Torino Genova Napoli dove siano quindi non hanno possibilità di venire però lei che mi dà l'incarico si deve avere l'incarico anche dagli altri cotitolari mi deve dichiarare che sono tutti d'accordo ecco quindi sicuramente ok Alberto dice si può presentare il frazionamento se nella lettera di incarico il firmatario dichiara di firmare con il consenso di tutti i proprietari certo infatti è così giusto e Jonathan dice verrà messa firma mancante giusto ok non vedo altre domande per cui abbiamo fatto meno 20 alle 7 anche stavolta ma c'era anche la pausa da recuperare qui Alberto dice scusa Gianni relativamente a quanto hai detto all'inizio della lezione io sul mio disco C non trovo alcun file pregero.ini e sì che ho impostato anche la visualizzazione dei file nascosti di sistema come mai? mi sembrava che mi sembrava che Jonathan dicesse che bisogna andare dentro la cartella windows vediamo nel mio caso se ce l'ho perché dentro la cartella eh bravo dov'è qui la cartella windows perché poi io non ci vado neanche mai forse sarà dentro utenti Gianni e probabilmente sarà dentro qua però guarda io ti dico sicuramente cerco di andarci il meno possibile sto proprio qua perché vediamo se se Jonathan magari vuole dirci eh lui parlava di c due punti windows ma sinceramente io guarda una volta eh quando non c'erano gli utenti del computer era un discorso eh adesso che sono gli utenti vedi ci sono varie cartelle c'è pubblica c'è default caso mai lo sbisceriamo questo perché lui parla di questo pregeo.ini non so se poi ecco qua aspetta scusa vediamo se eccolo qua vedi pregeo.ini è qua ovviamente questa sarà eh beh questa è la data dell'ultima volta penso che l'ho aperto che è stato 22 novembre e qui poi penso che basta dirgli non so apri quel blocco note eh difatti vi dicevo è un file di testo e quindi qui quello che diceva Jonathan penso che sia appunto che se tu qua gli vai a mettere la provincia qui eccetera lui mantiene questi cioè lui legge questo file e setta quella provincia lì ecco il discorso c'è prima corallo di Agrigento comunque ecco avete visto dove si trova bisogna andare su C due punti cartella Windows dose e poi è dentro lì come esattamente diceva Jonathan basta direi che possiamo fermarci qui quello che manca ma era così logico anche aspettare qui c'è tutta la parte che abbiamo visto con Corrado fino l'approvazione automatica e mancherebbe Sergio e Corrado queste verifiche post approvazione sai Gianni la prossima volta quando partiamo facciamo vedere sai che c'era qualcuno che aveva anche chiesto come si fa a scaricare l'estratto e tutto entriamo sul portale sister e facciamo vedere sia il controllo post che diciamo la richiesta estratto ecco quindi facciamo quelle due parti lì e poi andiamo avanti la richiesta estratto Sergio l'abbiamo già fatta vedere l'altra volta quindi basta basta questo ti ricordi che abbiamo fatto vedere lì e l'abbiamo messa sì sì ci mettiamo un attimo a farlo vedere c'era una richiesta che c'era abbiamo detto poi lo vediamo alla fine quindi facciamo vedere queste cose qui la prossima volta e poi c'era invece la parte dei modelli censuari delle varie tipologie di frazionamenti che chiaramente lì bisogna dedicarci un po' di calma perché avevamo appunto messo questi esempi di frazionamenti con il relativo modello censuario però questo lo rimandiamo lo rimandiamo lo rimandiamo Grazie.